Manga Piascica Sì? È stata ad una festa? No! Oggi siamo in fase di ricordi. Ah, il primo bacio? No, la mia prima volta. Ah, con chi? Ecco, spadovola. Ah, interessante, la prima volta che l'hai incontrato? No, la prima volta che mamma è nato. Il primo sganassone. Ho capito. Ci racconti? Eh, niente, eravamo alla festa di compleanno. Sì? Oggi lo bandazzo, o diremo l'Americano. E dove stavate? Eravamo nella licenza estiva dei Power Rangers. Addirittura? Sì, noi lo siamo. Eh, certo. Eravamo una bella comitiva dei pupazzi. Tutti pupazzi? Sì. Ce l'avevamo io, con la sciacquetta di Salon Rouge. Certo. Goldrick. Goldrick. Eravamo la cosa che si chiacchierava, si faceva. Certo. A un certo punto. A un certo punto? Ha arrivato a me. Chi? Capitano Carlo. Carlo, Carlo. Sì, e me fa. Oh, Gio. Ah. E io dico, quale? Eh, certo. Allora lui mi fa. Sa in campana. Addirittura. Nolite. Che mo' arriva, spadavola. Sì. E te colga. Lui. Eh? E io non ho fatto in tempo di, spada che è? Quella che mi ha, mi ha gonfiato. Ma perché? Eh? Ma tutt'oggi non mi ha dato a saperlo. Ma tu mi vorrai chiedere forse le origini di questo astio? Come nasce questo astio, appunto? Alza le so. Mongo, più sciogò. Ma io lo capisco. Perché? Perché? Perché, ad esempio. Che fai? È un po' intimidita la vedo un po'. No, perché io appena vedo i Pokémon. Sì. Provo dell'astio. Sì. E li ho già, così. No, così, ma ferma. Ma no! I poveri Pokémon! Ma che? Ma no! Ma perché li schiaccia? Perché? Che ne so. Ma che ne so. Chi è? Mi sa che sta arrivando la dose delle azzotti giornaliera. Spadafora? Sì! Lo vede, la cattiveria? Aspetta. Che fa? Non so, quando c'ho paura faccio delle cose strane. Eh sì, è inutile. Mi so che ci sono. Mi schiaccio un pisolino.